Buonasera da Marco Capugli e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con la cronaca. Il corpo esanime di un 26enne tunisino è stato trovato questa mattina nei giardini prospicenti. La stazione ferroviaria di Arezzo si indaga sulle cause del decesso. Si esclude al momento un overdose o una causa violenta. Chiara Sadotti. Drammatica scoperta questa mattina ad Arezzo. Il corpo di una 26enne è stato trovato vicino ad una panchina dei giardini del Porcinai, a pochi passi dalla stazione di Arezzo, una zona della città spesso teatro di episodi di cronaca. A notare il cadavere alle prime luci dell'alba alcuni passanti che stavano andando a prendere il treno. L'uomo di origini tunisine, noto alle forze dell'ordine senza fissa dimora, pare trovasse rifugio sempre in posti diversi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso, è intervenuta anche la polizia di Stato che ha avviato accertamenti per capire cosa sia accaduto. A stroncare la vita del giovane sarebbe stato un arresto cardiaco. Non ci sarebbero, infatti, secondo le prime informazioni, segni evidenti di violenza o elementi che possono ricondurre la morte ad un overdose. Inquirenti non escludono che il malore possa essere stato causato dalle basse temperature notturne in una delle notti più fredde delle ultime settimane. Il PM di turno Francesca Eva ha disposto l'ispezione cadaverica. Oggi, 8 marzo, festa internazionale della donna, occasione, come ogni anno, per sottolineare quanto ancora c'è da fare per risolvere i problemi legati al lavoro e alla condizione economica e femminile, per non parlare della violenza. I sindacati e il Centro Antiviolenza Pronto Donna avvertono la donna, spesso è l'alendo, fragile del mondo del lavoro. Il servizio. La violenza economica è una modalità, è un'espressione della violenza comunque maschile sulle donne che non permette alle donne di essere o autonome nella gestione della parte economica, dei guadagni, dei profitti che hanno, una disparità salariale invece nel mondo del lavoro oppure un mancato accesso alle disponibilità della famiglia. È la cosiddetta violenza economica, l'uso del denaro e l'accesso ad un impiego usati come mezzi di sopraffazione. Un fenomeno meno conosciuto rispetto alle altre modalità, ma comunque molto diffuso. In Italia un terzo delle donne non ha un conto corrente intestato. Questo è già una descrizione di quanto questo fenomeno sia sottointeso, come se non fosse un problema. Proprio come la violenza fisico-psicologica ha come fine ultimo limitare la libertà e l'autonomia della donna anche nelle più piccole decisioni quotidiane. È un fenomeno che è molto subdolo e molto difficile da identificare perché fa parte della cultura in cui viviamo. Ancora ad oggi c'è una disparità salariale, questa discriminazione è una regola, è una prassi con cui ci si trova a doverci confrontare e questo rende difficile poi rivendicare dei diritti. Noi cerchiamo tramite i percorsi di fuoriuscita dalla violenza di far emergere anche questo aspetto per far capire proprio il passaggio culturale che sottostà questa tipologia di violenza e molto spesso però ci riusciamo a fargli rendere conto di quanto invece sia importante la propria autonomia, soprattutto economica, e quanto possono riuscire a fare autonomamente. Prevenzione ma anche educazione alla finanza le migliori difese personali contro questo tipo di violenza. Proprio per questo l'Associazione Pronto Donna ha promosso e sta portando avanti dei progetti di informazione e di conoscenza in primis nelle scuole, quindi andiamo nelle scuole a parlare con le ragazze e ragazzi anche in vista delle scelte professionali che andranno a fare di che cos'è la violenza economica e della disparità appunto salariale, facciamo interventi rivolte alla cittadinanza e facciamo una ricerca dentro il Pronto Donna con le donne che si rivolgono a noi per capire che livello di informazione e di consapevolezza hanno per poter poi sviluppare gli strumenti adeguati per aiutarle e supportarle. Per le donne vittime di violenza è prevista una speciale misura di sostegno economico. Lo Stato italiano ha predisposto anche uno strumento che è il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di genere, che è uno strumento che difficilmente ad oggi è distribuito in un modo rispondente alle richieste che abbiamo ma piano piano sta prendendo strada e che è per le donne che svolgono un percorso riuscito dalla violenza e che hanno delle difficoltà economiche. Tutte le donne che pensano di vivere questa o d'altre forme di violenza possono chiedere aiuto al Centro Antiviolenza Pronto Donna di Arezzo. Noi siamo qui tutti i giorni da donne per le donne per cercare di fare la nostra parte in questo ambito che purtroppo ogni giorno sentiamo storie diverse e noi cerchiamo di fare la nostra piccola parte che però speriamo possa essere utile. Ed è festa della donna anche per la manifestazione tra virgolette più maschile della città ovvero la Giostra del Saracino. È stata inaugurata infatti questa mattina nel chiostro del Palazzo Comunale di Arezzo la mostra Dame in Giostra organizzata dall'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche Giostra del Saracino per celebrare questa giornata attraverso 30 scatti fotografici, il passato e il presente. La mostra ripercorre il ruolo delle donne nel corso dei decenni all'interno della Giostra del Saracino. Dame sì, ma anche protagonista in piazza, dietro le quinte, nei quartieri, in giuria o in magistratura. La mostra è visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18 con ingresso libero e fino al 23 di marzo. Un'opera monumentale è stata installata nella piazza centrale dell'outlet Valdichiana Village dal titolo La violenza è una gabbia, un'installazione artistica unica sul tema della violenza di genere. L'autrice è Anna Izzo. L'opera è stata inaugurata stamattina, ha ottenuto il patrocinio della Commissione regionale pari opportunità del Consiglio regionale della Toscana, della provincia di Arezzo e del comune di Foiano della Chiana. Sentiamo. Evviva, buon ottomazzo, buon ottomazzo. Tutto l'anno però, tutto l'anno. Delle gigantesche scarpe rosse racchiuse all'interno di una gabbia, è proprio una gabbia la violenza contro le donne. Questo è il messaggio forte che parte dal Valdichiana Village grazie a questa installazione. Le donne vivono un isolamento che le rende sempre più fragili, più deboli e invece la comunicazione è la vera forza in questa cosa. Uno, le donne devono smettere, smettere, lo ripeto, di fare le croce rossine, di voler salvare il mondo. Se noi siamo bene, se ci rispettiamo, se ci amiamo, salveremo davvero il mondo. E poi non è più accettabile, è impossibile, 120 donne uccise in un anno. È una mattanza. Come ci si può abituare a questa cosa? Per me è insopportabile. E questa scultura è un grido, ma è un grido di vita, non è una scultura, è un grido di tristezza, è un grido di lotta. Aprite questa gabbia, volate, uscite, lasciate la guzzino in gabbia, non date assolutamente mediazione di niente. Solo così possiamo liberarci di questa tragedia, perché è diventata una tragedia. E cambiamo argomento, si è svolto ieri presso l'hotel Etrusco di Arezzo un incontro tra Davide Faraone, presidente della Fondazione Italiana Autismo e padre di Sara, giovane ragazza autistica, e le quattro associazioni aretine che raccruppano i familiari di persone autistiche con disabilità intellettive, Associazione Autismo Arezzo, Fondazione Riconoscersi, Associazione Crescere e Toscana Abile. È stata l'occasione per affrontare davvero senza filtri di istituzioni o di sistemi sanitari la vita dei nostri figli, dichiarano le associazioni promotrici dell'incontro. Dall'Assemblea si è resa più evidente la richiesta di aiuto alla popolazione per far sentire la voce di queste famiglie già provate ed esperienze molto dure contro un sistema che si rifiuta di sopperire ai reali bisogni delle persone con autismo. Abbiamo la necessità, concludo nelle associazioni, di costruire insieme ai nostri figli un futuro in una comunità accolidente. Rimanando in ambito sanitario, sono cominciati i lavori di riammodernamento dell'area di radiologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, in cui sono installate le cosiddette macchine pesanti. Una delle TAC è stata smontata per permettere i lavori di adeguamento dei necessari lavori all'installazione per una macchina di nuova generazione. La nuova TAC, dotata di caratteristica iperperformante, dovrebbe arrivare a fine maggio. A causa di questo disagio per i lavori, il personale addetto alla TAC effettuerà turni aggiuntivi dalle ore 20 alle ore 24 per sopperire alle necessità ad aiutare e a coprire le numerose richieste. Ci saranno anche disponibili le TAC degli ospedali periferici delle vallate. Saranno oltre 500 gli studenti che parteciperanno dall'11 e 14 marzo alla rassegna regionale dei cori scolastici organizzata dall'USR Toscana all'interno del Piano Regionale per la Musica. Un'iniziativa che vuole promuovere la pratica corala nelle scuole della nostra regione e riunire in queste festose giornate tutti i cori scolastici attivi nella provincia di Arezzo. I cori partecipanti avranno come protagonisti i bambini dalla scuola dell'infanzia fino ai più grandi dell'Uceo musicale Petrarca di Arezzo. 274 saranno i dirigenti scolastici e i docenti coinvolti nella formazione specifica sulla coralità e 92 cori che si esibiranno nella rassegna regionale di questi cori scolastici. E andiamo ad un altro tipo di rappresentazione perché, come sapete, ormai da diverso tempo è cominciata la nostra consueta trasmissione del venerdì, Musica e Cabaret. Da tali e quali show di Raiunio fino appunto a Musica e Cabaret della nostra Arezzo TV, Andy Bellotti si prepara per il nostro show a Retino insieme a Milano Scali, al trio Beppe, Marco e Robi. Linea quindi allo studio dove c'è per noi, per questo anteprima, Greta Settimelli. Allora diamo la linea dall'altra parte dello studio al nostro Andy Bellotti che è già pronto per la nostra serata di Musica e Cabaret. Andy, benvenuto. Allora, come state? Sono molto emozionato, perché dopo averlo indossato per le lezioni di tali e quali che mi hanno portato a un successo incredibile, ora questa cosa la indosserò anche per la puntata? Esatto, sì, d'altra parte ti abbiamo lanciato, non dalla finestra, ma ovviamente... Infatti è per quello che faccio il volo di sotto. Esatto, insomma, un imitatore, cabaret, chi più ne ha più ne metta. Dai, appunto, visto che abbiamo detto che t'abbiamo lanciato, sentiamo un po' questo volo che per quanto si riguarda è un volo come? Low cost. Dimmi che sai che solo me sceglierai, ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Poi il tuo cavallo di battaglia, insomma, il tuo grandissimo ispirato, insomma, è la tua musa, no? La musa è l'appoglio. Esatto, l'appoglio, vediamo. Mamma mia tesoro, scusami, stai cantando benissimo, mamma mia, anzi devo chiamare l'ambulanza, momentanemente, danzando, mi sono preso Fernando, danzando, danzando. Delle volte si blocca, nelle app, non so, devo riuscire, aspetta l'accensione. Sarà il 4G che non funziona. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo, che qua il terremoto si accende il 5G. No, il terremoto non lo chiamiamo. Il terremoto si accende così, il 5G. Ecco, tra l'altro Malgioio che ti ha fatto i complimenti proprio in diretta, no? È stato veramente una cosa bellissima, al di là un video, lo posso dire sui social, questo, che ha avuto veramente il consenso di tutti, stavendo veramente 30, 40 mila visualizzazioni in pochi giorni, quindi una botta. Senti, Andy, ci facciamo un po' più seri, ti vedremo un po' in giro anche nei locali del nostro territorio, della provincia di Arezzo, della Toscana, diciamo, no? Certo, allora, posso dire già da domani, che appunto sabato sarà Grosseto, quindi anche lì la mattina Roma, poi chi ne ha più ne metta in Calabria, tu mi hai detto la Toscana, ma io giro anche fuori. Però posso dire che, insomma, mi vedete all'All Talent Show, anche all'All Talent Show con il mio jukebox umano, e anche lì è stata una bella ospitata, poi il 15 saremo di nuovo, ormai ospiti fisiti del video box di Rosario Fiorello, dell'amico Rosario, quindi, e poi il 19 a Raizo Radio, chi ne ha più ne metta, seguitemi perché davvero le vedrete delle belle. E dopo aver sorriso un po' con Andy, andiamo a parlare di sport, la nostra pagina sportiva che comincia con Nuove Acque e che organizza la seconda volta la Corsa dell'Acqua, una gara podistica patrocinata dal CONI, provincia di Arezzo e comune di Arezzo, con l'obiettivo di far conoscere ai partecipanti il percorso dell'acqua nel capoluogo partendo dal vecchio impianto di potabilizzazione di buon riposo, raggiungendo l'impianto di potabilizzazione di poggio cuculo, passando prima dell'arrivo dall'impianto di depurazione di casolino dove vengono trattate le acque reflue prima di essere restituite all'ambiente. La prima edizione della Corsa si è svolta lo scorso novembre, ha visto la partecipazione di 170 atleti ed è stata un successo anche per la passeggiata non competitiva. ci sarà quindi una corsa su strada di 14 chilometri dedicata ai runners agonistici e una passeggiata, come abbiamo detto, non competitiva di 6 chilometri alla portata di tutti. La partenza della gara competitiva avverrà le 9.30 di domenica 17 marzo dallo storico impianto dell'acquedotto di buon riposo, mentre la passeggiata partirà invece dalla sede di via Rossi 26 alle 10.30 per andare verso il sentiero della Bonifica. E parliamo di calcio con l'Arezzo che ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica prossima contro la Vis Pesaro. Ieri la squadra ha svolto l'allenamento pomeridiano al campo di Rigutino. Oggi è stata programmata una seduta che si è svolta a porte chiuse come anche quella di domani si svolgerà a porte chiuse. Dal primo minuto della prossima gara dovrebbero tornare sia Mavoli che Damiani a centro campo così come Guccione e Gaddini alle spalle di Gucci. Dietro dovrebbe esserci Donati che ha qualche chance in più per essere titolare come Montini sulla fascia. Indispensabili questi giocatori come del resto anche quelli indisponibili perché c'è ancora Polvani che è fermo per frattura al metacarpo e Decuban per problemi al ginocchio quindi ancora non a disposizione di Mister Indiani. Rimaniamo in ambito calcistico ma al femminile perché notizie proprio di questo pomeriggio l'abbandono di coach Eracleus che lascia l'Arezzo calcio femminile. La panchina è stata affidata quindi all'allenatrice della primavera Ilaria Leone è stato così rescisso consensualmente per motivi personali dell'allenatore il contratto che lo legava alla squadra femminile Amaranto con lui in Serie B le ragazze hanno conquistato 21 punti in 19 giornate quindi 6 vittorie 3 pareggi e 10 sconfitte. L'Arezzo calcio femminile ha ringraziato Mike Eracleus e Inaki Gonzalo Samilank per il lavoro svolto con impegno e professionalità in questi mesi alla guida della prima squadra augurando ad entrambi il meglio per il proseguo della loro carriera. E parliamo invece di tiro a volo perché la nazionale femminile di tiro a volo che si anerenà in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi presso il centro tecnico di Ponticina accompagnata dall'Oro Olimpico e commissario tecnico della nazionale Andrea Benelli è stata accolta e ricevuta dal sindaco di Laterina Pergine in municipio. Vediamo. Il cielo e il tempo non ci assiste molto in questi giorni perché fa molto freddo ma cerchiamo comunque di ottimizzare per gli allenamenti e quindi niente faremo sempre il nostro meglio e ringraziamo anche il nostro CT che ci segue in queste giornate importanti. Anche Martina Bartolomei in ritiro nella sua terra con la nazionale di tiro al volo. La squadra si sta infatti preparando nel centro tecnico di Ponticino ed è stata ricevuta in comuna la Terina dal sindaco e dal suo vice. È un piacere per noi avere ospite la nazionale femminile che si allena appunto in questo impianto e quindi è importante averli fra noi perché è una visibilità per il territorio e un onore. È un impianto molto importante a livello nazionale quest'anno abbiamo la finale del campionato italiano di questa specialità uomini, donne e junior e per me è un luogo dove sicuramente posso ho tutte le strutture necessarie per poter allenare bene i miei ragazzi. L'Italia del tiro al volo si sta preparando in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono tutti atleti che hanno vinto già gare molto importanti da campionati del mondo Olimpiadi, Coppa del mondo quindi il mio ruolo è quello di riuscire a portarle alle prossime Olimpiadi a Parigi ad agosto delle condizioni migliori per poter permettere di portare a casa qualche medaglia importante come abbiamo fatto sia a Tokyo che a Rio e anche nelle Olimpiadi precedenti. Il nostro sport è importante per le medaglie vinte a livello olimpico e campionati del mondo quindi speriamo di continuare questa importante tradizione. E concludiamo con il basket dopo la vittoria col Gulliver del Tona la SBA Amen BC Servizi domenica prossima è chiamata alle ore 18 ad affrontare in trasferta un altro quintetto piemontese il College Basket di Borgo Manero. Chiara Sadotti archiviata la vittoria a casa linga con la Gulliver del Tona la MBC Servizi Arezzo sarà impegnata domenica 10 marzo alle 18 sul campo del College Borgo Manero la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della società piemontese. Borgo Manero ha chiuso la prima fase al settimo posto con 22 punti portandosene dietro 6 per questa seconda fase dove ha esordito con la sconfitta di misura acquarrata sabato scorso è una delle realtà di basket giovanile attualmente più importanti del panorama cestistico italiano nonché vice campione d'Italia nella categoria Under 19 eccellenza. Attorno all'esperto Benzoni capo cannoniere della squadra con 426 punti segnati ruotano tutti i componenti dell'attuale formazione Under 19 di Borgo Manero capolissa del proprio girone di categoria tra cui spicca il 2005 Ferrari da segnalare nelle fila della formazione di coach di Cerbo poi anche la presenza dell'ex ba Adriano Bazan classe 2006 per l'AMBC Servizi dunque un importante appuntamento in Piemonte domenica alle 18 quando al Paladon Bosco sarà alzata la palla 2 tra Iamaranto e padroni di casa del CRT Group College Basket Borgo Manero e questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per aver seguito il nostro telegiornale e vi rimandiamo all'appuntamento con le prossime edizioni e vi rimandiamo